Buongiorno a tutti, sono Leonardo Duderman. Solo due piccoli messaggi. Uno, trasformate la vostra noia casalinga in noia produttiva, costruttiva. Due, forse al di là delle dietrologie e dei complottismi, lo Stato sta agendo in maniera prudente e responsabile. Perciò seguiamo queste regole perché a breve vi sarà la bella stagione e noi saremo felici di ricominciare e di condurre magari una vita migliore della precedente. E quindi pazienza e lungimiranza. In bocca al lupo.